Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. E allora come facciamo di consueto subito i titoli per capire quali saranno gli argomenti che andremo ad approfondire. Nomine Corecom, crisi nella maggioranza, Italia Viva chiede un confronto al Partito Democratico. Bollo Auto, eliminate le agevolazioni per il noleggio senza conducente. Inaugurata a Palazzo del Pegaso la mostra Pitture Scienza. Il Consiglio regionale ha eletto quattro componenti del Corecom. Due dei nuovi membri del Comitato regionale per le comunicazioni sono stati proposti dal PD, Bianca Maria Giocoli e Biagio De Presbiteris. Mentre gli altri due sono stati proposti dal centrodestra, Benedetta Baldi, Dallalega e Carlotta Agostini da Forza Italia. Il quinto componente, il presidente, verrà invece nominato dal presidente della regione di concerto con il presidente del Consiglio regionale. Le nomine del Corecom hanno però acceso la scintilla per le polemiche interne alla maggioranza. Il PD ha preso tutti i posti disponibili, ha affermato Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva, che non ha di fatto espresso nessun componente. Scaramelli ha richiesto un confronto con il PD per valutare se ci siano le condizioni per proseguire all'interno della maggioranza. È un fatto molto grave, per la prima volta nella storia della regione toscana un partito di governo che esprime maggioranza in questa regione non viene consentito di esprimere un rappresentante in un organismo di garanzia, su un settore molto delicato come quello dell'informazione, della comunicazione, dei rapporti con il mondo esterno. E questo crea un precedente. Un precedente, riteniamo che il PD abbia svolto con arroganza la presunzione di arrogarsi tutti i posti fondamentalmente disponibili. E questo è un po' in controtendenza con il fatto che più perde i voti il PD, più vuole occupare Poltrone. Il Presidente Gianni e il PD stanno decidendo in questa fase di fare un percorso autonomo. Questo ovviamente comporterà delle valutazioni che faremo nelle prossime ore. Lo faremo in maniera molto trasparente nei loro confronti. E credo che quindi non possa essere rinviato un confronto nell'ambito del quale si possa valutare o meno il proseguo di questa esperienza di governo congiunta. Risponde così il capogruppo del PD, Vincenzo Ceccarelli. Questo atteggiamento e questa uscita sinceramente sorprende. Non comprendo se è legata all'elezione dei membri del Coricom, dove sono stati comunque eletti ed elette delle persone molto competenti nel rispetto di tutti gli accordi. E in diverse occasioni si sono smarcati da voti di maggioranza. Quindi quando andremo al confronto gli chiederemo conto anche di questo. E credo che poi potremo trovare quell'assetto e trovare tutte quelle soluzioni che, ripeto, devono servire alla Toscana per il suo sviluppo e per dare una prospettiva alle nostre comunità. Se un alieno arrivasse in Toscana e ascoltasse un consiglio regionale capirebbe che Italia Viva è la principale forza di opposizione anti-PD in Toscana. Poi però casualmente esprime sia il vicepresidente del consiglio regionale che il vicepresidente della giunta regionale. Quindi io invito questa forza politica innanzitutto a fare chiarezza. Se si sta all'opposizione di solito non si esprimono i vice di chi sta in maggioranza. E chi sta in maggioranza accetta probabilmente per sopravvivere e per tirare a campare, come si dice a Firenze, fino al 2025 questa situazione. Perché non credo che un presidente di regione che è forte delle proprie posizioni, che sia sicuro, qualora vi fossero nuove elezioni, di essere confermato, accetterebbe mai che il suo vice, come è successo in Toscana con Gianni e la Saccardi, che il suo vice faccia parte di un partito. E gliene dice tutti coloro tutti i giorni che quando arrivano le elezioni politiche si candida contro il PD e fa una campagna elettorale esclusivamente contro il PD. Poi finiscono le elezioni e si siedono accanto e governano insieme. Questi sono problemi che stanno all'interno della maggioranza. Noi avevamo da esprimere due nomi come opposizione e questo abbiamo fatto. Facciano tutte le verifiche del caso, però qui si va avanti a voti diversi sugli atti importanti, a mozioni in ritirato e a mozioni che non trovano l'appoggio del Partito Democratico. Intanto i cittadini toscani continuano ad avere bisogno di risposte su tantissimi temi. Dal caro Bollette, ora siamo in consiglio regionale e trattiamo il tema della finanziaria di Fili Toscana. Continuino pure a litigare, però che facciano, tra virgolette, ci diano a noi una risposta per capire quale sia veramente la maggioranza che oggi governa questa Toscana, perché è fondamentale. Non lo è per me, non lo è per i partiti di centrodestra, ma lo è per tutti i toscani. Il terreno delle votazioni del Coricom sia l'ennesimo segnale di una maggioranza che effettivamente denota molti segnali di insofferenza. Io credo che chi è stato eletto naturalmente sono tutte persone alle quali va personalmente il mio auguro di buon lavoro. In realtà su questa elezione appunto si misurava la tenuta di un accordo, che comunque è quello di coalizione, su cui oggi si regge la maggioranza regionale. Evidentemente, visto che Italia Viva presentava un proprio candidato, c'è qualcosa che non ha funzionato nell'ambito degli accordi di maggioranza. Quindi io credo che sia un dovere da parte di chi si è presentato ai cittadini toscani con un programma e con una coalizione dare delle risposte ed andare uniti fin dove si può. Quando invece comincia la tenuta della maggioranza, comincia a schiccolare, io credo che sia doveroso fare una verifica per capire se si può andare avanti insieme, altrimenti naturalmente in questi casi la parola torna ai cittadini toscani. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza le modifiche alla legge sulla tassa automobilistica regionale. Tre le principali novità. La prima, la più significativa in termini numerici, riguarda il noleggio a lungo termine senza conducente. Nel 2013 erano state introdotte una serie di agevolazioni, di riduzioni importanti per i proprietari dei veicoli a noleggio senza conducente. Queste agevolazioni vengono quindi eliminate con la legge che è stata oggi licenziata dal Consiglio regionale. Pertanto si è stabilito che tutte le volte che vi sia un noleggio a lungo termine senza conducente e che l'utilizzatore abbia la residenza o la sede nel territorio della Toscana venga corrisposto, analogamente a tutti gli altri proprietari di veicoli, il bollo direttamente alla regione toscana. Dall'altra parte però c'è anche un altro importante cambiamento che riguarda le automediche. Non soltanto quindi le auto adibite ad ambulanza godono dell'esenzione dal bollo ma grazie a questa legge l'estensione viene fatta anche alle automediche e da ultimo si stabilisce l'effetto automatico della sospensione del pagamento del bollo al momento della trascrizione e della cessione alle imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli. Approvati anche gli emendamenti in aula presentati dal Presidente della Giunta, Eugenio Gianni. Il bollo auto per tutti i cittadini rimarrà per l'anno prossimo esattamente quello che è ora la modifica va a incrementare invece il bollo auto degli utilizzatori dei mezzi a noleggio quindi una nicchia, una categoria molto precisa perché è cambiata la legge a livello nazionale invece che le imprese proprietarie dei mezzi che vengono messi a noleggio la pagheranno gli utilizzatori e conseguentemente se alle imprese che pagavano bolli per migliaia di persone esisteva un'agevolazione nel momento in cui cambia la legge nazionale a pagare il bollo sono gli utilizzatori allora è giusto che paghino quanto pagano gli altri proprietari ovvero tutti i cittadini che hanno la loro auto. La Regione Toscana grazie a questa modifica normativa andrà ad incassare nel 2023 9 milioni di euro in più rispetto al passato che destinerà al comparto della sanità. Tutto bene. Allora noi ci chiediamo cos'è successo nel 2022? Perché cos'è successo alla sanità toscana nel 2022? E perché questa domanda? Perché la legge che permetteva alla Regione Toscana di incassare questi 9 milioni di extra cedito è la legge di stabilità del governo del 2019 in vigore dal 1 gennaio 2020. Cioè la Regione Toscana ha scientemente scelto di non incassare questi 9 milioni di euro nel 2020, nel 2021 e nel 2022 andando a incassare nel 2023. Vengono chiesti questi 9 milioni in più dalle casse che vengono comunque sono mani in tasca che vengono messe a una categoria che lavora e che produce ma non si sa come vengono finalizzati e soprattutto viene da pensare se la Regione non abbia trovato altro su cui risparmiare o su cui riuscire a incassare maggiormente e a questo punto viene da fare due riflessioni. I rumors riguardo il buco di bilancio che ci aspetterebbe a fine anno per la sanità continua a essere sempre più forte e consistente e il dubbio è che siano un bicchiere di acqua in mare per cercare di andare a colmare questo buco. L'altro pensiero che ci viene da fare riguardo a questa iniziativa a questa presa di posizione della Regione Toscana riguarda il fatto che le cifre che vengono cercate non sono state vincolate in nessun modo. È stato approvato, è passato al voto dell'Aula un nostro ordine del giorno che su quei 9 milioni finalmente cercava almeno di dare una risposta alle imprese ovvero prevedendo che queste risorse andassero ad essere destinate per quanto riguarda interventi strutturali per far fronte a Carobollette o meglio all'efficientamento energetico degli edifici produttivi. A noi sembra che oggi siamo in una situazione in cui il sostegno alle attività produttive e quindi di conseguenza l'occupazione debba essere una priorità. Abbiamo, come dire, scansato che queste risorse fossero destinate poi integralmente invece alla sanità che già copre l'80% del bilancio regionale e noi non possiamo permetterci di mettere sulla spesa corrente altre risorse senza programmazione. Noi abbiamo presentato un emendamento per dire se si tratta soltanto dei vicoli a noleggio a lungo termine così come fa riferimento alla normativa nazionale o anche a quelli a breve. C'è molta confusione, c'è anche divisione all'interno della maggioranza. Abbiamo visto Italia Viva che non è stata a votare questo provvedimento e consideriamo invece che la Lega è riuscita a far approvare un proprio ordine del giorno per il sostegno alle famiglie con minore a carico e con gravi disabilità. Oltre a quello dei gruppi di opposizione è contrario anche il voto di Italia Viva. Fin della settimana scorso che eravamo disponibili ad aumentare questa tassazione solamente a una condizione. Quella condizione che queste risorse, siccome verranno pagate essenzialmente da libri professionisti, da artigiani, da imprese che molte volte hanno auto a noleggio, potessero poi essere restituite nei confronti delle imprese, dei commercianti, degli artigiani che più di altri stanno soffrendo rispetto al caro bollette, al caro energia. Riteniamo che questo sia una cosa ingiusta. Non servono queste risorse per pagare il buco della sanità. Se questo c'è, deve essere spiegato se esiste o se non esiste. E quindi su questo ci chiediamo chiarezza ovviamente alla maggioranza di governo della regione toscana e non siamo stati disponibili a cedere sui nostri valori, sui nostri principi. Questa è l'analisi del capogruppo del PD, Vincenzo Ceccarelli. Questa è una riflessione che noi lasciamo all'opinione pubblica, ma che ovviamente riguarda in primis il Presidente, anche per quanto riguarda i nostri rapporti. Ci spiegheranno il perché di questo voto. Per quanto ci riguarda sottolineiamo il fatto che il provvedimento è comunque stato approvato con i voti del Partito Democratico e quindi l'agenda sanitaria e l'agenda sociale della regione potranno contare su queste risorse grazie al Partito Democratico. È stata inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azzeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso la mostra Pitture Scienza di Maria Cristina Conti. Al taglio del nastro era presente il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. L'esposizione proseguirà fino al prossimo 19 novembre. Attraverso la pittura io ricerco un percorso anteriore che ha a che fare poi con i cromatismi. Guardando i cromatismi entro in un universo, che è un universo inesplorato, un universo nel quale incontro me stessa. Nella mia pittura c'è un simbolo che negli ultimi anni si può vedere nei vari dipinti, che è la luna. La luna è il simbolo che richiama questo percorso di cambiamento. Questo è un luogo che noi mettiamo a disposizione delle eccellenze toscane, di chi ogni giorno può qui mettere in mostra le proprie qualità, può trasmettere bellezza. Ogni volta che ci troviamo di fronte a un'opera d'arte, quell'opera può emozionarci, può porci delle domande a cui ciascuno di noi cerca di dare la propria risposta. Io sono felice di essere oggi qui a poter inaugurare questa mostra. L'Expo Ciampi è un luogo in cui noi vogliamo investire in cultura. Più si investe in arte, in cultura, più si investe in libertà. È in un tempo in cui gli egoismi dilagano. Venire qui, poter ammirare queste opere, tornare io al mio lavoro ora, i cittadini alle proprie attività, portandosi dentro un po' di bellezza è qualcosa di grande e le istituzioni hanno il compito di investire in questa direzione. È tutto, questa era la nostra ultima intervista. Grazie per la cortesia e attenzione. Vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti.